no sai è di cattivo gusto e penso che di cattivo gusto pure chi mi fa questi scherzi credimi che è successo? che è successo? che è successo? che è successo? chi ti ha detto? è che non parla della bolletta ecco va bene gli ho detto voglio sapere a chi è investita questo è bello che ne pensi di questi scherzi? glielo ho detto che ne penso fanno ride? sono divertenti? no so come un tivo gusto gli ho detto come chi mi fa? perché? e beh perché? perché sei una stupido tu perché questa è la colpa tua questo diche rocche per cazzo